Dopo la caduta di Micene, per quattro secoli, la Grecia attraversò un'epoca buia dal punto di vista culturale. La rinascita iniziò nell'VIII secolo a.C. con la comparsa e lo sviluppo delle città-stato. Ognuna gareggiava con le altre per il primato economico e militare, ma anche per realizzare le opere più grandiose. Abbiamo visto come la civiltà micenea sia per molti aspetti legata allo sviluppo della civiltà greca, che, secondo una convenzione condivisa da tempo da storici e archeologi, avrebbe inizio intorno all'VIII secolo a.C. Cosa succede nei quattro secoli che separano la caduta dei regni micenei? Nel XII secolo è l'inizio convenzionale della civiltà greca, l'VIII secolo. E' questo l'argomento della nostra video-lezione. Dopo il crollo della civiltà micenea, il volto della Grecia si trasformò completamente. In primo luogo, nel XII e XI secolo, i regni micenei, un territorio piuttosto vasto che faceva capo a una città principale, Micene, Tirinto, Pilo, lasciano il posto a nuove forme di insediamento. Il primo è quello del centro urbano attorno al quale si organizzano piccole unità territoriali, niente a che vedere con il regno miceneo che era molto più esteso. Il secondo è quello dei villaggi sparsi, inseriti in contesti agricoli e pastorali di maggiore arretratezza. Come facciamo a sostenere tutto ciò? Dagli scavi archeologici condotti nei siti dei regni micenei, emergono da una parte tracce di incendi e di crolli che fanno pensare a una distruzione violenta e rapida. Dall'altra resti di insediamenti sparsi che sono successivi all'età micenea. Qui abbiamo un documento interessante che attesta appunto le tracce di incendi e di crolli, di incendi in particolare. Questa è una tavoletta che nella parte destra mostra chiari segni di combustione dovuti appunto a un incendio. La popolazione in questo periodo si disperde dunque in piccoli villaggi e vive prevalentemente di pastorizia e di agricoltura. Tutto ciò rappresenta chiaramente un regresso rispetto allo splendore della civiltà micenea che, come abbiamo visto, era militarmente ben organizzata e soprattutto praticava il commercio, importando beni ed esportando i propri prodotti in tutta l'area del Mediterraneo. A partire dal XII secolo la famosa anfora micenea, l'anfora staffa, scompare quasi del tutto dall'orizzonte dei traffici del Mediterraneo e nei villaggi e nelle piccole realtà urbane della Grecia di questo periodo non sono stati ritrovati oggetti provenienti da altre zone del Mediterraneo, per esempio il vetro fenicio, che documentano in genere attività di scambi commerciali. È chiaro che il venir meno dei commerci comporti anche isolamento, assenza di contatti culturali con altri popoli e regresso.